Le modifiche al decreto Abruzzo approvate alla Camera non soddisfano pienamente gli amministratori locali? Non soddisfano nessuno pienamente, nel senso che è sempre un lavoro da completare, nessuno può essere soddisfatto pienamente. Però le modifiche sul decreto Abruzzo alla Camera hanno portato diverse misure buone per i cittadini e per i comuni. C'è un problema sui comuni per quanto riguarda le spese di emergenza, qualcosa riguarda anche il fatto che i comuni non hanno ben capito cos'è stato il passaggio dal patto di stabilità al pareggio di bilancio. Alcuni sindaci tornano a parlare di dissesto finanziario, ad esempio il sindaco di Teramo, i sindaci dei comuni che rientrano nel cratero. Sì, ma questo non sarà un problema perché le spese per l'emergenza ci sono ulteriori 300 milioni stanziati e quindi su questo c'è il problema della rendicontazione di alcuni adempimenti. Però loro dicono che le norme non le coprono, il MEF dice che copre anche questi adempimenti, li vedremo se non saranno coperti. È chiaro che i comuni devono avere la possibilità di rendicontare le spese che hanno avuto durante l'emergenza. Dopodiché il terremoto e il decreto non sono solo comuni, ci sono persone, aziende, io voglio ricordare che questo è il terremoto meglio trattato della storia. Gli aquilani vorrebbero entrare nel nostro, cioè abbiamo 100% di risarcimento sia prima casa che seconda casa, sia dentro che fuori dal cratero. Ci sono già stanziate e derogati soldi per l'autonoma sistemazione e voglio ricordare che sono migliaia e migliaia di persone. E poi abbiamo introdotto le novità importanti anche rispetto alle aziende e per quanto riguarda le famiglie. Il danno indiretto, il discorso del restauro dei beni culturali e ambientali, ci sono altri soldi per le imprese. Ma ci sono i margini per ulteriori modifiche? Il terremoto dell'Aquila c'è stato nel 2009, noi stiamo ancora legiferando, quindi non è possibile pensare che noi in pochi mesi, qualcuno ha detto ma avete già fatto tre norme e si vede che non sapete cosa fare. Beh, mi sembra perché tre norme ci sono state a causa di tre terremoti diversi, tre eventi diversi. Io non so se qualcuno a dicembre era in grado di prevedere quello che sarebbe successo il 18 di gennaio. Quello del 18 di gennaio è stato un evento soprattutto abruzzese. Il decreto considera soprattutto l'Abruzzo, facendo entrare altri comuni nel decreto e tenendo conto delle spese per il maltempo. Poi c'è un problema per le amministrazioni pubbliche, è un problema su cui siamo sensibili, oggi è uscito il testo, lo vediamo, è chiaro che le amministrazioni devono essere messe in condizione di poter operare, su questo non c'è dubbio.